Cosa significa penna? Cosa vuol dire graffetta? No, decisamente non penso che quando si impara una nuova lingua si deve cominciare a parlare sin dal primo giorno. Parlare per dire che cosa, se ancora non sai niente. Penso invece che bisogna sì ascoltare la lingua che si vuole imparare sin dal primo giorno, per il maggior tempo possibile, ogni giorno. Trenta minuti è già un buon inizio e, importante, farlo tutti i giorni. E con quale obiettivo? L'obiettivo deve essere quello di capire il significato di quello che si ascolta. Per questo è importante, specialmente all'inizio, conoscere frasi del tipo Cosa significa? Cosa vuol dire? Ma se intanto io escuto, 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 consiglio di intendere tutto che ho usato in italiano e da lì io voglio cominciare a parlare e voglio cominciare a parlare tutto perfettamente? No, non è proprio così. Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video. Io sono Pierluigi, creatore di Vuoi Apprendere Italiano e del programma Vai. E per rispondere subito alla domanda precedente, la risposta è assolutamente no. No, perché parlare è un'abilità, una capacità e, come tutte le capacità, si acquisisce con l'esercizio. Per cui, quanto più ci esercitiamo, tanto più saremo capaci di parlare bene. Imparare una lingua è un processo in cui, inizialmente, impari a comprendere e poi, col passare del tempo, aumenta la tua comprensione e aumenta anche la tua capacità di parlare in modo graduale. Ma parlare non deve essere una cosa forzata. È una cosa che avviene naturalmente, per effetto del contatto costante con la lingua, a un certo punto sentirai proprio il desiderio di esprimerti in italiano. Ovviamente, quando si comincia a parlare in italiano, l'inizio è la parte più difficile, perché in quel momento sono più le cose che non sai dire rispetto a quelle che sai dire. Per questo, in questo video, voglio aiutarti con alcune frasi utili che sicuramente ti serviranno nelle tue prime conversazioni in italiano. E non solo. Hai presente quando una persona ti parla, ma tu non stai capendo bene il senso, il significato del discorso di quella persona? Magari in portoghese potresti chiedere Beh, in questi casi in italiano potresti dire Specialmente all'inizio è molto probabile sentire delle parole o a volte anche delle espressioni, magari delle espressioni idiomatiche, che semplicemente non capiamo. E allora non c'è niente di male nel dire Scusa, non ho capito. Scusa, non ho capito. Questo è un modo informale di parlare. Possiamo dire la stessa cosa in modo formale dicendo Scusi, non ho capito. Scusi, non ho capito. E successivamente, a seconda delle situazioni, potresti chiedere Potresti ripetere Potresti ripetere Oppure Potresti parlare più lentamente Potresti parlare più lentamente O ancora Immagina che qualcuno ti stia dicendo a voce un indirizzo E tu potresti chiedere di scriverlo E allora la domanda è Potresti scriverlo? Potresti scriverlo? E a proposito di chiedere Di scrivere quello che sentiamo Dovete sapere che Quando ho conosciuto Adriana Sul cammino di Santiago Nel 2011 A proposito Chi non sapesse la storia Poi la racconterò nel corso gratuito La strada giusta In modo approfondito Ma insomma Dovete sapere che Quando l'ho conosciuta Io avevo in mano Un'agenda dove Scrivevo il mio diario di viaggio E quando lei mi ha chiesto il nome Io le ho detto Pierluigi Rizzo Lei mi ha chiesto di scrivere il mio nome Il mio cognome Su quell'agenda E allora lei ha letto E ha detto E io ho pensato Attenzione Le tre domande che vi ho detto In precedenza Sono rivolte in modo informale Potresti Potete fare le stesse domande In modo formale Sostituendo potresti con potrebbe Sottinteso lei Quindi potrebbe E in tutte quelle situazioni In cui non capite In situazioni in cui Magari in portoghese direste OI In italiano potete dire Cosa? Oppure Come? E in queste situazioni Potete anche usare Una parola italiana Molto comune Che si usa Anche in queste situazioni Specifiche Che è Prego Quindi immaginate Siete al telefono O di persona State conversando Non capite bene Cosa quella persona Ha detto E quindi volete E quindi volete Che quella persona Ripeta Basta dire Prego Prego Se pensate di aver capito Quello che l'altra persona Sta dicendo Potete dire Credo di aver capito Oppure Penso di aver capito Mentre Se siete sicuri Potete dire Ho capito Ho capito Quando state ascoltando Il ragionamento Di un'altra persona E magari concordate E volete dare Questo feedback Potete dire Semplicemente Certo Certo Oppure Certamente Certamente Certo Oppure Se magari Vi stanno dando Delle istruzioni No? Vi stanno spiegando Come fare una determinata cosa E voi volete dire Ta? Ta bon? No? In TG Potete dire semplicemente Va bene Va bene Va bene Immaginate adesso Che qualcuno Vi abbia dato Delle istruzioni Per raggiungere Un indirizzo E voi Non sapete bene Se avete ricordato Tutti i passaggi E allora Potreste Riepilogare Queste istruzioni E potreste dire Vediamo se ho capito Vediamo se ho capito O Vediamo un po' Se ho capito E ripetete I principali Passaggi Di queste istruzioni Che avete ricevuto Quando cominciamo a parlare È molto comune Capita molto spesso Che non ci viene in mente La parola specifica Non ci viene in mente Il verbo E allora Può essere utile La frase Come si dice Questa È molto semplice Ma bisogna saperla Come si dice Caneta Ad esempio Come si dice Caneta Attenzione Non si dice Come io parlo Come ho falo In portoghese Non è come io parlo Ma come si dice Come si dice Caneta O ancora Come posso dire Caneta Come posso dire Comer Mangiare E se non siete sicuri Al 100% Di quello Che avete detto Non c'è niente di male Nel chiedere È giusto Oppure È corretto Oppure Potreste chiedere Come faceva Il grande Ayrton A proposito Se non avete visto Il video Su Ayrton Senna Cliccate qui In alto A sinistra Nel link Andate a vedere Questo video Che è imperdibile Ayrton Nell'intervista Che ho analizzato Diceva Rinviare Si dice Si dice Si dice E quando avete Spiegato qualcosa A un'altra persona E volete essere sicuri Che quella persona Abbia capito Potete dire Semplicemente Hai capito Voce intendeu Hai capito Cioè Hai capito Quello che ti ho detto Oppure Al presente Capisci Capisci Cioè Voce intendeu Intendeu Che io sto falando Capisci Quello che ti sto dicendo Capisci Attenzione A non dire Capici O capice Perché queste espressioni Non esistono E ancora Quando finite di parlare Quando finite Un discorso E ovviamente Sperate che L'altra persona Abbia recepito Tutto quello Che volevate dire Potete dire Non so Se sono stato chiaro Non so Se mi sono Spiegato Oppure ancora Spero Spero Di essere stato chiaro Spero Di essermi spiegato Bene ragazzi Spero che queste frasi Possano esservi Di aiuto Nelle vostre prime Conversazioni In italiano Vi invito ancora una volta Se non l'avete fatto Ad iscrivervi Al corso gratuito La strada giusta Qui in alto O nella descrizione Del video Vi assicuro Che questo corso Cambierà totalmente Il vostro modo Di imparare L'italiano E conseguentemente Anche i vostri risultati Con la lingua italiana E ovviamente Vi do l'appuntamento Al prossimo video A presto Ciao Ciao